A Castione della Presolana nei giorni scorsi è partita una raccolta firme per il problema della carenza di medici di base. A promuovere questa iniziativa il gruppo Cittadinanza Attiva, ecco, perché avete voluto dare il via a una raccolta firme? Che cosa vi aspettate? Allora, la raccolta firme è una specie di iniziativa così che abbiamo fatto noi come gruppo di Cittadinanza Attiva perché il problema non si sta assolutamente risolvendo ma i tempi di attesa sono stati biblici e continueranno a essere biblici fin quando qualcuno vorrà risolvere finalmente questo problema. Questa raccolta firme è stata fatta soprattutto per stimolare la popolazione del posto ad avere anche loro una responsabilità verso anche le istituzioni di fissare alcuni punti che sono Prima di tutto un'assistenza sanitaria continua, un'assistenza sanitaria anche domiciliare, un'assistenza nei periodi di emergenza oppure di un'emergenza di un paziente del territorio. Abbiamo detto, vabbè, nessuno ci risponde, sono mesi di silenzio, vogliamo far sentire la nostra voce, anche perché io ero stanco, sono stanco e sono vecchio, di sentire la gente quando li incontro a dire ma come mai non viene il medico? Io sono senza medico, devo fare le ricette, devo fare un esame, devo sempre andare negli ospedali ma non si può ingolfare l'ospedale di Piario per tantissime cose che potrebbero essere benissimo fatte sul territorio. Ho preso il mio tavolino nel giardino, una sedia, due moduli che loro mi hanno fornito, ho fatto le fotocopie e sabato mattina alle 8 io ero al ponte tra Dorga e Bratto e ho incominciato a raccogliere le firme. Preciso che quando ho mandato gli avvisi, ho portato in giro gli avvisi ai negozi, ai bar, ai ristoranti eccetera, ho avuto un'accoglienza che dirò sinceramente mi ha molto stupito perché era veramente calorosa. Nel senso che anche chi aveva avuto il medico o chi ha il medico eccetera e tutto voleva firmare appunto per gli altri perché questo è il problema. Nel nostro avviso c'era su di firmare anche per chi non aveva il medico. Come è andata finora la raccolta firme e come prosegue? La raccolta è stata andata al di là di ogni più rosea previsione, sono state raccolte circa 800 firme nelle giornate di sabato e domenica scorse, così che intendiamo replicare in questo fine settimana per cui di nuovo sabato a Bratto d'Orga in via Donizzetti, nei pressi del ponte per intenderci, ci sarà il banchetto mattino e pomeriggio per la raccolta di ulteriori firme, mentre per quanto riguarda Castione domenica mattino in via Vittorio Emanuele, non distante dalla chiesa parocchiale, e anche lì continueremo a raccogliere sottoscrizioni per queste iniziative in modo da esercitare una pressione verso gli organi competenti, dalla ragione a TS, anche al sindaco, e anche per essere di esempio per ogni paese, ogni comunità che a questo punto io penso debba in qualche modo far sentire la propria voce perché, vista la situazione generale, in andamento generale, temiamo che le cose tendano a peggiorare anziché a migliorare.